su ok benvenuti all'auto alla guida di legion of zelda dei mini scappi parte 3 io avrei già fatto ci sono stati degli errori io ho stoppato al in pieno il tempo cioè ho fatto ma perchè dobbiamo e quindi ho straballato a 19 minuti vabbè adesso faccio avanti veloce perchè ma adesso sono noi e non voglio fare tutto cioè tutto con calma perchè faccio tutto adesso questi pezzi qui li faccio veloci vabbè dai insomma quello che ci ha detto come ve lo spiego allora adesso vi spiego che ve lo dico io adesso perchè non volevo proprio perdere tempo e che dice il re che guarda le guardie a cattura cercare vati e incarica noi di andare alla forza di titolare e prendere uno dei quattro elementi per per la spada per fare la spada mini spezzata per farla dobbiamo andare alla piana nord di rule faccio un polipo aia un altro e vediamo la rupia verde che vale uno adesso aia dannazione di soledì ci sarebbe qualcosa però quindi intorni allora andiamo abbiamo fatto riano l'on adesso un cuore copro un po' di vita e dicevo noi dobbiamo andare a forza di titolare c'è una spada qui questa bellissima spada ok distruggiamo le raffi capito aia che volina è aia aia ammazzini fatto forza di titolare aia 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 ok sto morendo per quanto questi imbecilli egoisti privi di cervello oh dei ciu 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 vieni qui ciu 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 ok che ciu ciu mi fa pensare sia dalla forma sia dal nome il nome ehm no niente ciupa 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 Quindi però prima prendiamo i frammenti di cuore, prendiamo tutta la vita, no non si può andare, no, andiamo a salvare, e da questa parte credo che farò un'eccezione, non parlerò, cioè farò tutto di fretta, ma soltanto perché mi sono rotto oggi che... Ok, ho fatto la parte e mi è venuta stra... nostra... esagerato col tempo. Allora, adesso... E adesso dobbiamo... No, andiamo... Oh, dannazione... Ehm, passaggio... Vabbè, andiamo... Questo qua ci dice che quel tronco è un passaggio minice, cioè... Un affare che... adesso vedrete cosa ci fa... Questo... Vabbè, dice... Siamo tutti piccoli, la pozzanga, la pozzanga, una pozzanga è una pallude senza fondo e bla bla bla... Ma potremmo passare, ma qui no, perché la neghiamo. Quando dobbiamo prendere la foglia... Allora, in questa puntata credo di essere privo di... senso dell'umorismo. Non so tanto perché... Quella cosa ha detto... No, forse è la prossima puntata che farò domani perché adesso... Eh beh, sono le 20.10. Sembra che siamo arrivati, no? Vabbè, i minici ci trovano, parlano nel minese... Ehm... Adesso dobbiamo cercare una parola... Oh, sì, una parola... Una persona che parla l'italiano. Ma prima... Prendiamo qui... Naturalmente di cuore... Ok... Ehm... Amerin dice... Dobbiamo prendere il seme di favella... Che sta qui... Alla casa botte... Per parlare il minese... Mangiamo il seme di favella... E torniamo alla casa... E adesso... Ah, adesso dobbiamo andare... Mi sembra dal decano... Ok, questo qui... Ma tu parli il minese, prego... Ma questa mia dimora è priva di interesse... Prego, mettiti pure a tuo agio... No, no, no... Grazie per la gentilezza... Ma avremo una certa fetta... Mi chiamo già io... Questa persona è il link... Questa persona è il link... Sembra che ha giocato... Un sortileggio e un sortileggio... Questa è di ruola... La spada minici che potremmo rompere l'incatissima... È stata spezzata... E... È furfante... Non l'ho letto intorno... Siamo venuti fin qui... Per chiedere ai minici... Di forgiare... Una nuova spada gabietale... Potere... Capisco... Ma per fare la spada in cui parli... Ci vogliono i quattro elementi... Gli elementi sono... La forza spirituale del mondo... Che prende le forme di essi... E se sono nel momento... In cui essi vengono infusi... Nella spada... Questa avrà potere... E guardate... Un elemento dov'è... Per quanto riguarda... L'elemento zolla... Potrete trovare... Nella gabietà... Norte della cassa del sacerdote... Hameahin... Farò lui a farvi da guida... Ma siete abundanti... Di spiegare... Vabbè... Dobbiamo andare... Lì... A un tempietto... Della foresta... Ah... Siamo annegati... Ma il tempietto è da questa parte... Allora... Allora... Come avete notato... Là c'è un trucco... Perché... In un futuro... Si potrà passare... Lì... Ah... Non devo più indicare con il dito... Eh... Allora... Allora... In qualche modo... Vabbè... Dai... Entriamo... Benvenuti al tempio della foresta... Questo è il tempio della foresta... Allora... Quello è infestato dai spiriti... Cosa hai da esitare? Ci ci sono io, no? Prego dopo di te... No... Aspetta... Andiamo insieme... Va... Quest'è stato che sono... Enormemente sospetti... Non ho veramente... Dai... Sono sospetti... Ma... 100% Allora... Distruggiamo questi vasi... Non so che punto... Sono con il tempo... Eh... No... Beh... Ci fermiamo qui... Salvo... E... Ci fermiamo... Ciao... Ciao...